Buonasera Garzia, ci descrive le emozioni, le sensazioni per una partita come Napoli-Real Madrid e soprattutto se ci descrive il momento e che cosa è cambiato in queste ultime partite? Chiedo scusa mister, scusami se ti interrompo, una domanda a testa per cortesia perché siete tantissimi quindi è giusto dare spazio a tutti, quindi una domanda a testa, grazie. Quindi qual è la domanda? Se ci descrive le sue sensazioni, le emozioni per questa sfida. Guarda che questa Champions League è la più bella competizione dei club e quindi per un anelatore, per i giocatori è sempre un momento speciale, particolare. Solo il momento quando sentiamo la musichetta della Champions in campo ti dà una carica veramente importante e ti fa prendere anche atto del fatto che la stai giocando. Già ho detto quando sono arrivato che Napoli è una squadra che deve giocare la Champions ogni anno adesso parliamo della Champions League e quindi siamo primi con il Real Madrid del girone però per non rispondere alla seconda domanda è anche il campionato che ti porta a giocare ogni anno la Champions League. quindi abbiamo fatto l'ultima partita bene sul fatto che siamo tornati nei primi quattro e adesso possiamo dedicarsi totalmente a questa grande locandina partita contro il Real Madrid, uno dei più grandi club del mondo con un palmares unico penso che l'hanno vinto cinque volte nelle dieci ultime stagioni tra quella due anni fa con lo stesso grande allenatore che conoscete bene voi e che anche io conosco e apprezzo bene e quindi forse hanno ancora più di una decina di giocatori dei due anni fa contro il Liverpool in finale vuol dire che sarà una partita difficile però noi abbiamo l'ambizione di entrare in campo e di fare di tutto per vincerla. La pregunta ha sido se nos puoi descrivere le emozioni e le sensazioni per questo encuentro la risposta è che la Champions League è sempre la competizione più bella per giocare per l'entrenatore e per gli giocatori già con solo escuchare la musica ti dà molta carga e ti dà cuenta che la stai giocando Napoli è un'equipo che deve giocare la Champions ogni anno e per non contestare la seconda domanda anche il campionato ti dà giocare la Champions già siamo tra le primi 4, la ultima la abbiamo giocato bene e ora possiamo dedicare a Real Madrid che è un'equipo che ha giocato 5 volte nei ultimi 10 anni hace due anni con il stesso entrenatore che conosciamo molto bene e ha più di 10 giocatori che anche giocaroni hace due anni va a essere un partito difficile ma abbiamo l'ambizione di venire Signora mi disculpa, le prossime risposte mie saranno più cortate Non si preoccupa Canale 8 e si prepara il Corriere dello Sport Ciao Giovanni, buon pomeriggio Ne avete giocate tantissime di partite come queste alcune memorabili sia al Maradona che negli stadi più importanti di tutta Europa il Napoli quindi insomma ormai è in pianta stabile nella competizione più bella e più emozionante come ha detto anche il mister pensate che al di là della grandezza dell'avversario domani riuscirete ad imporvi voi con il vostro gioco o bisognerà fare più attenzione a quello che metterà in campo Ancelotti dall'altro lato? Grazie Intanto è sempre bello giocare questo tipo di partite sarà una partita da giocare e non da subire nel senso che sappiamo che affrontiamo la squadra con grandissimi campioni questa competizione diciamo che è casa loro perché l'hanno vinta tantissime volte però noi siamo pronti, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico ci sarà lo stadio pieno quindi faremo il massimo per metterli in difficoltà sapendo che insomma davanti abbiamo una grande squadra ma anche indietro però ripeto anche noi siamo pronti sono sicuro che loro pensano che anche noi siamo una grande squadra perché lo abbiamo dimostrato con i giocatori che abbiamo quindi ripeto sarà emozionante e sarà bello da giocare domani sera La domanda è se stai preparati e come hai dimostrato potete giocare questo partito La risposta è che sempre è bello come si ha detto giocare un partito come questo è un partito per giocare e non per soffrire giocare contro un'equipo di campioni che ha salito campioni molte volte la Champions League è sua casa ma siamo preparati per giocare con un stadio pieno con la nostra aficione e siamo preparati per darlo tutto abbiamo davanti un equipaggio ma loro pensano lo stesso di noi e lo abbiamo dimostrato Corriere dello Sport e si prepara la Gazzetta dello Sport Buongiorno sfida un monumento parlo di Ancelotti e sfida forse il club più importante della storia del calcio ci vuole più cuore e più cervello per me questa domanda le due ci vuole il cuore però ce l'avremo questo è sicuro poi ci vuole anche la testa perché ci saranno momenti nella partita dove dovremo essere bravi o a spingere o a impedire al Real Madrid di mostrare in campo le sue qualità quindi sì servono sempre queste due cose il cuore ce l'avremo certamente senza problemi e su reta un monumento desafia un monumento come Ancelotti a un club come il Real Madrid hace falta más corazón o más cabeza ma cerebro la respuesta hacen falta ambos ovviamente il corazón lo tenemos e lo tendremo anche la cabeza hace falta perché habrà momentos in cui sarà necessario empujare o parare al Real Madrid però siamo preparati Gazzetta dello Sport e si prepara Diario As Buongiorno Rudy non c'è dubbio che il Real Madrid sia una squadra fortissima con tante individualità eccetera però oggi ce n'è una che sta emergendo in maniera clamorosa che è quella di Bellingham un giocatore del genere come si limita cioè con un discorso di squadra di marcatura doppia più attenta cioè quale può essere la strategia detto che poi i grandi campioni sono sempre grandi campioni guarda loro sono stato soprattutto bravi con la partenza di Benzema in Arabia a prendere un giocatore come Bellingham che non è nello stesso posto che gioca più dietro le due punte però che sappiamo che è un giocatore forte e poi non è che voglio solo pensare a un giocatore perché guarda loro sono stati anche molto bravi a prendere un attaccante come José Lu che voglio dire che loro hanno giocatori forti tecnicamente però è anche una squadra potentissima e alta anche pericolosa sui calci piazzati quindi è una squadra completa però noi abbiamo anche tonte possibilità nella nostra squadra il mio capitano ha parlato del nostro attacco però siamo forti in tutti i reparti e quindi domani sarà sì una gara importante su tutti i piani e noi per avere questa ambizione di vincere dovremmo essere prima di tutto umili questo è sicuro e seconda cosa al 120% di tutte le nostre qualità per avere questa ambizione la domanda la domanda la domanda come si può limitar a Bellingham nel marco per esempio il Real è un equipaggio con jugadores molto e hanno sido buoni con la salita di Benzema a fichare a Bellingham che è un giocatore molto forte non voglio pensare solo in individualità perché per esempio anche José è un giocatore molto importante però lo che passa è che è il equip che si mantiene alto è peligroso è completo noi abbiamo possibilità di attacchi ma abbiamo anche in tutto l'equipo in tutti i reparti ma sarà importante in tutti i nivelli ma lo che fa è l'humilità e giocare al 120% Giovanni ciao domani ti troverai di fronte Vinicius che ha recuperato dal suo infortunio ed è disponibile volevo sapere che avversario è per te e se lo hai studiato in maniera particolare visto che potresti trovartelo spesso nella tua zona grazie sicuramente è un grande campione è un grandissimo giocatore che nonostante la giovane età ha determinato fin da subito da quando è arrivato a Real Madrid quindi dovremmo stare attenti a lui ma come ha detto il Mist non solo a un giocatore ma a tutta la squadra sapendo poi che quando avremo la palla noi dovremmo imporre il nostro gioco e cercare di mettere in difficoltà loro la domanda lo ha detto lei prima si arriva alla Champions attraverso il campionato il Napoli in campionato non era partito benissimo e riduce adesso da due vittorie consecutive una prestazione autorevole anzi quasi autoritaria contro contro il Lecce è cambiato qualcosa e al di là della crescita della condizione è cambiato qualcosa anche nell'atteggiamento della sua squadra merito dei giocatori merito suo c'è stato un confronto più approfondito se c'è stato un punto di intesa tra lei e la squadra ci può dire quale è stato grazie guarda quando vinci le due prima partita del campionato non puoi dire che hai iniziato male poi la cosa che è cambiato che con le stessi ripeto solo quello che hai detto che è una buona cosa di ripetere quello che dicono i protagonisti quindi la cosa che è cambiato è continuando a avere il migliore possesso palla della serie continuando a tirare in porta tanto quando ti avvicini così da porta a volte più che palo che esce ti prende il palo che entra e poi la fiducia torna per alcuni giocatori penso a Gvisha Baratschelia che adesso che ha fatto gol veramente è più leggero nella testa e l'ha ritrovato il gol essendo felice in campo è un giocatore unico che salta l'uomo e forse forzava un po' troppo le sue giocate pensando troppo al gol che gli mancava da marzo e quindi è cambiato poco solo che adesso abbiamo un po' più successo nei tiri in porta perché questo era una cosa da migliorare prendere di più la porta e poi fare dei gol forse su calci piazzati e a Lecce abbiamo fatto il primo gol su calci piazzato e abbiamo preso quasi 35% di volte la porta quando abbiamo tirato in porta e con la qualità dei nostri giocatori fai dei gol e quando ne fai uno di più che l'adversario vinci più facilmente le partite o le vinci più che pareggiarle la domanda come si ha detto se llega a la Champions con il campeonato con le ultime due victorias parece che ha cambiato può essere in la attitud ha parlato con i giocatori quando si gano i primi due partite non si comincia male però dicendo questo ha cambiato che con una posizione abbiamo la posizione del balone miglior della Serie A seguimos disparando a red e seguendo disparando a red di volta se marca e la confianza volve per esempio con Cuarasquella che ora sembra più sereno più tranquillo più felice salta il hombre stava demasiado concentrato in marcar un gol che le faltava desde marzo con questo llega a más éxito con i dispari in porta con i dispari con il balone parato con lec abbiamo tirato il 35% di volte a red con la calidad de los jugadores con un gol más se ganan los partidos il mattino e si prepara cronache di Napoli sì Garzia questa partita per lei forse arriva con 7 anni di ritardo perché lei avrebbe dovuto giocare con la Roma negli ottavi contro il Real Madrid ha un senso speciale un sapore particolare in più questa partita per lei mi sono espresso già su questa cosa ne abbiamo parlato quando sono arrivato forse me lo ricordo riprendete i miei i miei dichiarazioni con precisione e quindi non ho niente da aggiungere la storia è il presente è il presente il Napoli che incontra il Real Madrid è quindi una gara come sogniamo tutti di giocarle giocando la Champions quindi concentriamoci solo su questa questa gara prima di tutto recuperiamo bene perché sarà la quarta partita in nove giorni che è un ritmo veramente direi non bene per i giocatori questo calendario è sempre a rischio per alcuni giocatori che devono giocare tutti tutto che hanno già giocato con la loro nazionale l'esempio è per esempio Giovanni che forse per lui sarà la settima partita in pochi giorni quindi io devo anche pensare a questa cosa ci ho pensato a Lecce ci ho pensato un po' prima perché loro devono solo concentrarsi sulla partita che giocano però io devo pensare alla cosa che arriva dopo su questa partita ovviamente la Champions daremo tutto e poi avremo cinque giorni per riposare però per il momento la parola d'ordine essere pronto fisicamente domani perché con il cuore i giocatori ci saranno la domanda se questo partita ha un sapore special che sembra con 7 anni di retraso nei octavi di Roma la risposta è che no già lo ho detto quando arrivo già lo ho comentato non voglio aggiungare più perché il presente è lo che conta il encuentro tra Napoli e Real Madrid è un encuentro che ogni entrenatore e ogni giocatore sogna e abbiamo che centri in questo il calendario è molto difficile è un calendario loco perché sarà il quarto partito in nove giorni senza tenere in cuenta le elezioni Giovanni per esempio va a jugar il settimo partito in nove giorni e abbiamo che pensare in questo in centrarnos i giocatori nel partito e io anche in quello che arriva dopo ma ora siamo preparati per il encuentro di mattina croniche di Napoli e si prepara Repubblica buongiorno Giovanni un giocatore importante per il Napoli che Ozymen sta attraversando dei giorni un po' complicati ecco come capitano e come giocatore importante dello spogliatoio voi come lo lo state supportando e come lo state come dire accompagnando in questi in questo periodo ma per quanto riguarda Ozymen per noi non è cambiato niente il suo rapporto che ha che all'interno della squadra che il suo atteggiamento la sua voglia di dare il massimo per questa maglia per questi tifosi non è cambiato e si è vista anche in partita la voglia che ha quando gioca e la disponibilità che ha verso i suoi compagni quindi per noi è il solito Ozymen sappiamo che è un grandissimo giocatore quindi darà il massimo lui come tutti domani per affrontare una grande partita un commentario salve buongiorno vorrei chiederle la partita di domani può già indirizzare il primo posto nel girone visto come ha detto lei siete tutte e due prime o è ancora un po' presto grazie forse forse ancora un po' presto la cosa importante per noi è aver vinto la prima a Braga perché è mai semplice vincere fuori casa in Champions League e poi come ho detto faremo di tutto domani per vincerla sapendo che è una grande squadra di fronte meglio fare un risultato positivo per andare avanti nella competizione questo è sicuro e faremo di tutto per farlo magnana già se va a decidire il primo lugar nel gruppo nella classificazione magari sia un poco temprano un poco pronto per dirlo lo importante è che ganiamo in Braga a domicilio che non è mai facile nella Champions magnana faremo tutto per ganarmi la migliore posizione possibile Radio Kiss Kiss e si prepara Tivolluna Giovanni buongiorno abbiamo visto una difesa blindata nelle ultime partite molto attenta concentrata volevo chiederti come ti trovi con i nuovi compagni di reparto Ostigard e Nathan sì sì sicuramente intanto siamo contenti di non aver subito gol nell'ultima partita che dà fiducia importante per noi per tutta la squadra per il portiere quindi siamo contenti di questo e per quanto riguarda la coppia difensiva penso che stanno facendo molto bene naturalmente i giocatori quando giocano con continuità prendono ancora più fiducia e questo sta accadendo anche per loro due quindi siamo contenti di quello che stanno dando alla squadra e speriamo che possono continuare così stai giocando con una defensa molto cerrata come ti trovi con i nuovi compagni Ostigard e Nathan siamo molto contenti soprattutto perché non non ci sono in lecce e questa dupla defensiva sta facendo molto bene e seguire giocando tutti i partiti ovviamente le sta con fianza Buonasera Giovanni tu sei il giocatore ideale per ogni allenatore di calcio sia quelli che ci hanno preceduti sia per Gersia dico questo perché posso confermare no ma è proprio dico questo perché in attacco sei straordinario in difesa pure non sbaglio una partita giochi tutte le gare ma io mi voglio chiedere ma come com'è che giochi tutte le gare e non fai turn over non ti firmi mai la gente dice ma di Lorenzo gioca sempre no partite ne sbaglio ne sbaglio anch'io senza ombra di dubbio quindi sbaglio e non so è attraverso il lavoro il avere cura del corpo dell'allenamento della vita in generale che magari mi fa performare così però insomma anch'io sbaglio sbaglio spesso ho detto humiltà per domani questa è la prova la prova della humiltà bueno che eres il jugador ideal para los entrenadores perché eres super in attacco in defensa come come non non parare non equivocarti io anche mi equivoco ma si consegue tutto lo meglio lavorando, cuidando il corpo l'entrenamento e la vita in generale io anche a volte mi equivoco Napoli Magazine e si prepara Canale 21 Ciao Giovanni ben ritrovato la forza del Napoli è stata sempre quella del gruppo non del singolo allora ti chiedo ma all'interno dello spogliatoio anche dopo aver superato questo momento difficile c'è la convinzione di poter ricalcare quello che è stato fatto nella scorsa stagione sia in campionato che in Champions perché nel giro nei Champions ci avete abituato a grandissime cose e poi se hai consigliato a Victor in caso di gollo di rimettere le foto a me dà un po' fastidio una cosa nel senso che quando la squadra non fa bene una partita si dice che non è più quella dell'anno scorso, quando invece fa bene una partita è tornato al Napoli dell'anno scorso cioè si continua a parlare del Napoli dell'anno scorso quando invece secondo me dobbiamo guardare avanti siamo una squadra forte sicuramente all'inizio della stagione abbiamo avuto qualche non dico partita ma frangenti di partite in cui non siamo stati del nostro livello però insomma la stagione è lunga e siamo tutti concentrati e focalizzati su quello che deve essere il nostro percorso in campionato e in Champions League parlando della Champions naturalmente siamo partiti con questa vittoria in trasferta che non è mai facile quindi affrontiamo domani la partita con la giusta tranquillità serenità dovremmo essere una squadra coraggiosa propositiva e tra virgolette un po' sfacciata perché quando affronti queste grandi squadre devi devi accettare il duello che ti trovi davanti però sono sicuro che faremo una grande partita la forza di Napoli sempre ha sido la del colectivo nel vestuario segui estando convenciti di che si possono conseguire i obiettivi della settimana passata a mi lo che mi molesta è che quando un equipo se equivoca in alcuni partiti si dice che non è il Napoli del anno passato e quando in cambio vengono si dice che che è tornato il Napoli della settimana passata hai che mirare hacia delante siamo fuerti parti dei partiti non le facciamo a livello però ora siamo tornati a concentrarsi nel nostro recorrido tanto in campionato come nella Champions League in la Champions abbiamo vengono vengono a domicilio maggiorni stiamo tranquili valenti e descarati perché a Sies come si affrontano un'equipo di questo tipo Canale 21 e si prepara Pianeta Napoli Salve la domanda è per Garzia quello che voglio chiederle avendo di fronte una squadra così blasonata come il Real Madrid super vincente elencava lei i successi così come l'allenatore che è stato anche qui a Napoli può rappresentare questo blasone questa forza questa importanza una sorta di impedimento e se lo è come si lavora sulla testa dei ragazzi che vuol dire impedimento per favore un condizionamento psicologico negativo quindi noi ovviamente abbiamo studiato questa squadra per far vedere ai ragazzi le forze e le debolezze del Real Madrid perché ogni squadra al mondo anche noi non abbiamo solo forze ma poi la cosa più importante è concentrarsi su noi stessi sul nostro gioco sulle nostre qualità e sulla nostra fiducia che dobbiamo dimostrare domani come ha detto il capitano dobbiamo arrivare con tranquillità serenità perché penso che alle 21 non sarà necessario parlare di motivazione loro saranno tutti a bomba come si dice però poi questo è il cuore e poi va anche riflettuto e pensare alle cose che dobbiamo mettere anche in campo tutti insieme da squadra per fare dal nostro meglio non serve dirsi ogni minuto e giochiamo una delle più grandi squadre del mondo lo sappiamo per fare per fare un'equipo di Real Madrid potrebbero avere obstacoli psicologici come si preparano di cabeza ai jugatori chiaramente Buongiorno, una domanda per il capitano. Lo scorso anno avete sfiorato la semifinale di Champions che vi è sfuggita sicuramente per sfortuna e scelte discutibili da parte degli arbitri. Confermarsi quest'anno, cioè arrivare così avanti, è un sogno o un obiettivo anche per superare Juventus e Milan nel ranking e accedere al Mondiale per club del prossimo anno? Io penso che dobbiamo andare a step. Il primo obiettivo sicuramente è quello di passare il girone. È un girone difficile perché in questa competizione non ci sono mai partite scontate e facili e spesso si risolvono per piccoli dettagli. Quindi sicuramente il primo obiettivo che abbiamo è quello di arrivare agli ottavi e poi vedremo dove arriveremo. Il anno passato avete sfiorato le semifinali di Champions, magari per faltati arbitrali o altri problemi. Lleggare così avanti a questo anno è un sogno o è un obiettivo? També pensando nel Mondiale per clubes. Il primo obiettivo è passare la fase di gruppi, che sarà difficile perché sono equipi complessi e molto a menudo sono i dettagli che facendo la differenza. Il primo obiettivo ovviamente è arrivare a ottavosi di finale. Tele Club Italia e si prepara Radio Onda Zero. Ciao Capitano, intanto ti ricordo che domani avrai la fascia con lo scudetto sul petto come fu per Maradona proprio contro il Real Madrid nell'87. Ti chiedo, dovrai soltanto tenere d'occhio Vinicius e gli altri che verranno dal tuo lato o proverai anche comunque ad offendere? Io non gioco per rincorrere soltanto un avversario, quindi cercherò di fare la mia partita come sempre. Come ho detto prima sappiamo che davanti avremo una squadra forte con grandi campioni, però poi dovremo giocare anche noi la partita e cercare di essere coraggiosi e propositivi. Quindi è quello che faremo dalla squadra, non solo contro i singoli giocatori. Grazie a tutti. Prima dell'ultima domanda ringrazio Selene che ci ha appena comunicato che è il giocatore che oggi terrà la conferenza stampa insieme ad Ancelotti e Valverde. Prego Radio Onda Zero. Ciao mister, qua sopra. Mario Gagodei, Radio Onda Zero di Spagna. Vorrei chiederle, in queste partite e ormai in queste stagioni si è visto al Real Madrid con due tipi di centro del campo. Uno molto tecnico con Kroos e Modric e uno molto più fisico con Kamavinga, Chouamini, Bellingham. Secondo lei, che tipo di centro del campo viene meglio al gioco del Napoli? Dove può aggredire, con che centro del campo potrebbe aggredire più il Napoli domani? Guarda, torna sempre alla stessa cosa sul fatto che loro hanno giocatori bravi e hanno sia tecnica che fisico. La squadra che ci andrebbe bene è quella che batteremmo, però non so che squadra metterà. Ovviamente Carlo Ancelotti è uno scherzo per dire che ancora una volta basta concentrarsi su di noi, sapere ovviamente chi gioca di fronte a te, perché i giocatori devono sapere tutto del loro avversario, opponente diretto sul campo e il resto dobbiamo essere bravi anche a gestire i dettagli, come l'ha detto Giovanni, perché spesso sulle grandi gare si decidono anche su queste cose che sembrano dettagli, ma sono cose importanti. Nel ultimo partito il Real Madrid ha giocato con due centrocampi distinti, qual potrebbe essere il migliore per il Napoli? Grazie a tutti. Grazie a tutti.